Ultimo video della settimana, breve. Un commento sulla versione 2, diciamo così, dell'esercizio, che è quella che trovate su GitHub e già linkata sulla pagina del corso. Cosa è cambiato nella versione 2? Essenzialmente è cambiato che adesso abbiamo due file, il nostro server.js come prima e il nostro dao.js. Perché due file? Perché prima, se ricordavate, per esempio l'API di Courses, noi avevamo dentro questa chiamata, qui al posto di queste tre righe, avevamo la query al database, quindi a SQLite 3, l'analisi del risultato della query, il trasferimento, la trasformazione del risultato della query in un JSON e la risposta del JSON al client che faceva richiesta. Adesso quelle stesse cose, tranne la trasformazione del JSON che continua a essere qui, sono dentro il metodo getAllCourses di DAO. Che cos'è DAO? DAO è un file il cui unico, un modulo in realtà, DAO sta per Data Access Object, quindi un modulo per fornire, è un pattern in realtà di programmazione DAO, molto usato in Java, ma che si può usare anche in altri linguaggi in quanto è un pattern, che appunto fornisce un oggetto, un modulo, una classe, un qualcosa per accedere ai dati. Quali dati? Nel nostro caso al database. In questo caso cos'è? È un modulo che essenzialmente fa quello che il nostro codice faceva prima. Quindi importa il modulo SQLite, crea la connessione col database su file che si chiama exam.db e poi nel metodo, per esempio getAllCourses fa quello che faceva prima, una select asterisco fromCourse, poi chiamava una dbAll, se c'era un errore lanciava l'errore. Altrimenti creava Courses con un, partendo dall'erro, che abbiamo detto, è in parte ridondante in questo caso, a meno che non cambiamo il nome da CFO a Credits, per esempio, se non facciamo qualche modifica, e poi nel caso precedente ritornavamo Courses come JSON e lo ritornavamo al server. Qui cosa cambia? Quindi qui essenzialmente questa parte è al 90% uguale a prima, per quanto riguarda la connessione col database è davvero identica prima. Qual è la differenza qui? La differenza è che questo è, questa getAllCourses, se voi ricordate com'era prima, era una funzione, questa dbAll, è una funzione asincrona. Quindi noi dobbiamo aspettare che questi risultati siano disponibili prima di rispondere al server. Allora prima cosa facevamo? Prima in questa dbAll facevamo tutto dentro dbAll. Se ricordate avevamo app.getCourses e poi db.all e lì dentro gestivamo gli errori, gestivamo questo mapping dalle righe ai nostri corsi e qui dentro rispondavamo correttamente al server, al client che ci faceva richiesta. Quindi mettevamo questo Courses in un oggetto JSON e fornivamo la risposta HTTP. Adesso avendo diviso queste cose, avendo diviso le connessioni dal database con le root vere e proprie, dobbiamo trovare un modo per rispettare in un certo senso questa, il fatto che questa dbAll abbia una callback e il fatto che questa dbAll sia asincrona. Allora come facciamo a rispettare questo e quindi ritornare in un certo senso al server, a questa root, solo l'informazione quando il database ce l'ha fornita in maniera asincrona? Lo facciamo con una promise. Quindi creiamo una nuova promise che torniamo, ricorderete la promise prende due oggetti nella sua callback, resolve e reject. Resolve è il metodo della promise che si chiama, passando come parametro, quello che deve ritornare in caso di successo della promise, reject è quello che si chiama quando la promise fallisce e quindi eventualmente quello che bisogna ritornare in caso appunto di insuccesso della promise. Quindi nel nostro caso abbiamo l'errore, l'errore nel database come un reject della promise. Se la promise fallisce ritorniamo quello che c'è dentro questo R. Se invece la promise va a buon fine, quindi questa query va a buon fine, passiamo a resolve courses che è la nostra oggetto con dentro la nostra lista di tutti i corsi. Quindi di qui a un certo punto questo getAllCourses chiamerà il den se la promise è andata a buon fine e quindi c'è un resolve e passerà giustamente courses che a questo punto verrà restituito al server come json. In caso di errore invece la promise chiamerà questo catch che genererà un 500 interno al server error e invierà l'errore al client. Quindi, ripeto, questo getAllCourses ritorna una promise, quindi il nostro server invoca questo dao.getAllCourses e in un certo senso sta in attesa che questo getAllCourses risponda a qualcosa. Che cosa è questo qualcosa che risponde? È un oggetto che a un certo punto arriverà, una variabile, un contenuto, che a un certo punto in maniera sincrona sarà disponibile. Quando sarà disponibile? In base al fatto che l'oggetto, la risposta, quello che verrà ritornato dalla funzione asincrona getAllCourses che sarà in una promise, sia andata a buon fine, verrà chiamato il den. E quindi questo è il ramo del è andato tutto bene. Altrimenti se c'è stato un errore e la promise viene rifiutata, verrà chiamato il catch. Questa è forse la differenza maggiore tra la versione 1 e la versione 2. avendo separato i moduli, ma dovendo comunque rispettare il fatto che il DB viene interrogato in maniera sincrona, abbiamo dovuto introdurre una promise, creare una promise e di qui gestire la promise. Però il codice di qui è molto più snello e non ha bisogno, in un certo senso, può anche ignorare che cosa fa questo getAllCourses. L'unica cosa che deve sapere è che questo metodo, questo modulo, ha una funzione che si chiama getAllCourses che restituirà tutti i corsi in una promise perché è una funzione asincrona. Come vedete, il get di un singolo corso è molto simile, solo che il metodo si chiama getCourseByCode e gli passiamo il parametro, il codice, passato dalla URL. e poi è uguale, se c'è un corso, se la promise va a buon fine, ritorniamo alle informazioni del corso, se la promise d'errore, in questo caso diamo un 404 e stampiamo anche l'errore, per esempio codice non trovato, corso non trovato. In maniera analoga, dammi tutti gli esami, che qui è stato implementato rispetto alla versione 1, fa la stessa cosa, di getAllCourses, quello che cambia è la query, SQL, perché uno insiste su una tabella e uno insiste sull'altro, e la post per creare un nuovo esame, di nuovo, per la parte che riguarda la promise, è la stessa cosa, creiamo un esame dal body della richiesta, passiamo questo esame alla create exam, che farà l'insert, e poi chiamiamo, in base al fatto che la promise vada a buon fine o vada o genero errore, restituiamo un 201 object created, sì, resource created, e impostiamo un header di questa risposta per dire qual è il path nuovo, il path relativo dell'oggetto creato. Quindi se noi creiamo un nuovo esame, che avrà ID 5, per esempio, risponderemo con 201 e l'header HTTP di quella risposta 201 avrà in location la stringa slash exam slash 5, perché 5 è l'ID del nuovo oggetto creato, oppure darà un errore generato dal DB. Un'altra cosa che non c'era nella versione 1, ma che ho voluto qui aggiungere come esempio, è la validazione di un dato, di una sottomissione di informazioni, come capita nel caso del post, o nel caso del puttang. Cosa ho fatto? Ho installato questo middleware che si chiama Express Validator, sempre con npm install express validator, quindi adesso lo trovate in package.json e l'ho importato. Questo Express Validator, come è già scritto nelle slide, ha bisogno, definisce due variabili, una che si chiama check, una che si chiama validation result, due proprietà, anzi. Queste proprietà possono essere inserite in mezzo alle chiamate, alle root. Vedete, app.post in genere aveva come primo parametro il path e come secondo parametro la richiesta e la risposta. In questo caso ha anche in mezzo questo array che fa questi due controlli. Quali sono questi due controlli? Questi due controlli utilizzano la proprietà check, che abbiamo definito prima, importandola da Express Validator e dentro nel corpo della root il validation result. Cosa fa il check? Il check definisce su quali proprietà del body, della richiesta, in questo caso, vanno applicate dei controlli e quali sono questi controlli. Quindi diciamo che quando viene fatta questa chiamata post deve essere controllato che il body, il campo score passato nel body, sia un intero o sia convertibile in un intero, il cui valore minimo è 18 e il cui valore massimo è 30. Validiamo che il voto che noi stiamo cercando di registrare è un esame con un voto valido e con un voto sufficiente. Inoltre facciamo un controllo sul codice del corso. Il codice del corso, da quello che possiamo dire, ha sempre una lunghezza minima di 5 caratteri e una lunghezza massima di 6. Non esistono codici di corso con lunghezza 2, per esempio. E quindi controlliamo anche questa lunghezza. Il risultato di questo controllo va a finire in questo error se recuperandolo tramite validation result. Quindi validation result della richiesta effettua effettivamente questi controlli e nel caso in cui questi controlli non vengono passati restituisce, inserisce in una variabile a vostro piacere, che qui si può chiamare error, degli errori eventuali. Quindi uno scorno rispettato, magari maggiore di 30 o minore di 18 e un code più corto di 5 o più lungo di 6. Quindi questo fa questo controllo, restituisce una variabile, controlliamo se questa variabile ha dentro qualcosa. Se questa variabile ha dentro qualcosa, a questo punto non ci serve andare avanti con creare il nuovo esame nel database perché abbiamo dei problemi in quella risorsa da creare e allora restituiamo direttamente uno status 422 e riportiamo quali sono gli errori che arrivano da questo validation result. Proviamolo. Queste sono le grosse modifiche che ho fatto tra versione 1 e versione 2. La divisione in moduli e quindi l'utilizzo delle promise è tra server e DAO e vedete che server a un certo punto all'inizio fa anche un require di DAO.javascript. Quindi importo a DAO.javascript e tutte queste funzioni hanno questo exports davanti, quindi sono esportate. Export getAllCourses, esportiamo questa funzione come getAllCourses. Proviamolo. Quindi riapriamo il terminale e come prima facciamo nodmon o nod in questo caso uguale se non facciamo modifiche server.js Lo lanciamo e proviamo per esempio a fare una get su esami. Facendo una get su esami vediamo che funziona e che ci restituisce i tre esami che ci aspettiamo. Se facciamo una get su Courses vedete che di nuovo funziona e se chiediamo un singolo corso analogamente abbiamo i dettagli su un singolo corso. Per esempio se noi chiediamo un corso che non esiste dovremmo ricevere un 404 e allora vediamo che se chiediamo un corso che non esiste ci torna un errore con CourseNotFound. Stessa cosa se non riusciamo a chiedere gli esami perché c'è un qualche problema e risultiamo un interno al server error. Proviamo allora la creazione di un esame. Quindi utilizziamo di nuovo questo sito che abbiamo usato prima http 2 punti localhost 2 punti 3000 slash exams una post il contenuto è sempre application.json e proviamo a passargli code mf0162 speriamo non esista speriamo sia un corso valido score 30 e date 2 punti 2020 05 15 proviamo ad aggiungere questo corso e anzi verifichiamo subito che questi 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 controlli funzionino per esempio mettiamo che abbiamo preso come voto 5 allora mandiamo questo e vedete che quello che ci viene tornato era meglio prima era appunto 422 entità non processabile e l'errore è l'errore che arriva da questo validation result qual è l'errore che il valore 5 è un valore non valido per score allora sistemiamolo e diciamo che abbiamo preso 25 e riproviamo a vedere cosa succede vedete che a questo punto arriva un 201 created che appunto vuol dire che abbiamo creato con successo che il database ha inserito con successo l'esame quindi ha passato tutti i controlli ha inserito con successo l'esame e ha tornato un 201 created inoltre dovremmo aver tornato nel leader della risposta un location con la posizione la url relativa della nuova risorsa allora se andiamo a vedere nel leader vedete che c'è questa proprietà location che ha slash exams slash 4 4 dovrebbe essere l'id di questa risorsa quindi se andiamo a chiedere di nuovo exams dovremmo trovare metodologie di programmazione per il web che è mf01.62 con il voto che abbiamo appena inserito 25 con id appunto 4